Nel quadro del corso di Storia dell'arte greca e romana dedicheremo un approfondimento al tema Lara Pacis di Augusto. Gli argomenti della lezione odierna saranno i seguenti. Il quadro topografico, Lara Pacis nel Campo Marzio, la struttura del monumento, l'altare e la sua decorazione, il recinto e il suo programma decorativo. Lara Pacis, come la vediamo oggi, era un altare dedicato alla pace che sorgeva nel Campo Marzio. Augusto, nel suo testamento le resgeste, ci ricorda l'occasione della dedica e dell'altare. Tornato nel 13 a.C., vittorioso dalla Spagna e dalla Gallia, il Senato gli va incontro e per festeggiare il ritorno decide di dedicare un altare alla pace di Augusto stesso. Questa onorificenza veniva in qualche modo sostituirsi agli onori del trionfo che Augusto stesso aveva rifiutato dopo il 29 a.C. Per quanto riguarda la sua ubicazione topografica, qui noi vediamo un'immagine del Campo Marzio in età augustea. Sappiamo che questa pianura romana venne occupata progressivamente da tutta una serie di costruzioni, in parte opera dello stesso Augusto, in parte del genero Agrippa. Il Campo Marzio settentrionale, quello dove sorgerà Lara Pacis, era rimasto in qualche modo libero da costruzioni. L'unica costruzione precedente era il mausoleo di Augusto con il vicino Ustrinum. Ecco, noi vediamo un'immagine di come oggi si presenta il mausoleo di Augusto, vale a dire il grande monumento funerario che Augusto stesso Ottaviano aveva concepito e programmato sin dal 31 a.C. la data della sua vittoria a Dazio contro Antonio e Cleopatra. Questa è la pianta del monumento, vediamo si trattava di un'enorme costruzione circolare di ben 89 metri di diametro costituita da una serie di cerchi concentrici al centro della quale doveva stare la camera sepolcrale. Noi sappiamo dalla vita di Augusto di Svetonio che probabilmente il monumento era già stato ultimato nel 28 a.C. Nel 23 sappiamo che viene sepolto il nipote di Augusto Marcello, seguito poi nel 12 da Agrippa e nell'11 da Ottavia, la sorella di Augusto. Qual era l'aspetto del monumento? Strabone ce lo descrive e ci dice che sopra un alto cilindro era una copertura la quale doveva essere tutta decorata con una serie di alberi. In alto, sopra un cilindro più stretto, la costruzione si concludeva con la statua in bronzo di Augusto. Ora, su questo monumento si sono spese molte parole, sia per quanto riguarda la sua forma, sia per quanto riguarda i precedenti che possono averlo ispirato. Sicuramente vi è in questo monumento una reminiscenza dei grandi tumuli italici che era anche possibile vedere ancora nella campagna romana e in tutta Italia. Ma sicuramente un'altra forte suggestione deve venire dal grande monumento funerario che Ottaviano aveva visitato quando era arrivato vincitore ad Alessandria, e cioè la tomba monumentale di Alessandro Magno. La data stessa del concepimento di questo monumento così precoce nella storia di Augusto del 31 ci dimostra chiaramente che esso si rifaceva a un'ideologia pienamente ellenistica. Viceversa, più tardi, concepito proprio esattamente in corrispondenza dell'Arapacis, la data di fondazione è la stessa, è un altro monumento della stessa zona, un grandioso orologio solare. L'orologio era costituito da un obelisco portato anche questa volta da Alessandria, obelisco che era stato eretto originariamente da un faraone psammetico vissuto nel VI secolo a.C. La funzione dell'obelisco era quella di proiettare la sua ombra per terra e segnare in questo modo tanto le ore del giorno quanto i giorni dell'anno. Qui noi vediamo un particolare della pavimentazione della piazza su cui si stendeva l'orologio come è stata ritrovata sotto i palazzi nelle vicinanze dell'odierno palazzo di Montecitorio. e questa è una ricostruzione di come si doveva presentare l'orologio di Augusto in corrispondenza con l'Arapacis. È stato notato che l'ombra proiettata dall'obelisco sul terreno andava a cadere nel giorno del 23 di settembre, vale a dire nel giorno del compleanno di Augusto, proprio in corrispondenza dell'ingresso dell'altare. Quindi in questo modo si festeggiava la figura di Augusto e la sua nascita come colui che era nato per portare la pace a Roma e nel mondo. E qui noi vediamo, viceversa, il rapporto che intercorreva tra i tre monumenti. Più a nord il mausoleo, l'obelisco o orologio solare l'Arapacis. L'obelisco con la sua provenienza egiziana e l'epigrafe posta alla sua base che ricordava ancora una volta la vittoria sull'Egitto, fanno in qualche modo da tramite tra il più antico monumento, il mausoleo ispirato ad Alessandro, e il nuovo monumento, l'altare dedicato alla pace. Un monumento che, come vedremo adesso, è portatore di un'ideologia completamente diversa. Torniamo ancora una volta alla pianta del complesso e alla posizione dell'altare, che doveva essere orientato lungo l'asse stradale, con un accesso principale sul campo marzio a Doves e un'uscita sulla via stessa. Questa immagine, che ci mostra alcuni rilievi dell'Arapacis prima della sua ricostruzione, serve in qualche modo a introdurre quella che è stata la storia del ritrovamento di questo monumento. I primi frammenti tornano alla luce nel 1568. Alla fine dell'Ottocento, uno studioso tedesco, il Duhn, avanza per il primo l'ipotesi che essi appartengano a questo monumento ricordato dalle fonti. Poi ancora altri scavi vengono condotti sotto il palazzo Fiano al Maggià nel 1903. E infine, nel 1937 e 1938, il soprintendente di allora Moretti, conduce uno scavo sistematico che porta al ritrovamento degli altri frammenti e si procede quindi alla ricostruzione dell'altare nella sua veste attuale. Analizziamone prima la pianta e veniamo con questo a parlare della sua struttura. L'altare, vero e proprio, è costituito da una costruzione piccola, di piccole dimensioni, a forma di pi greco, o meglio a U, che sorge su un basamento di tre gradini ed è circondata da un recinto quadrangolare. Le dimensioni del recinto misura 11 metri per 10, quindi è quasi quadrato, e la sua stessa forma hanno messo in evidenza un fatto ben preciso, che questo recinto corrisponde a un vero e proprio recinto sacro, un temenos, e tutto l'insieme si deve considerare un templum inauguratum, vale a dire un edificio sacro fondato con delle precise regole di carattere religioso dai sacerdoti preposti gli auguri. Vedete, questo era l'ingresso sul lato occidentale, dal lato del Campo Marzio, con questa bassa scalinata, sull'altro lato, viceversa, l'ingresso era a livello del terreno. E ora ritorniamo all'immagine dell'Arapacis nel suo aspetto attuale. Questo è il recinto, ed ora vediamo un disegno ricostruttivo con lo spaccato che ci permette di vedere esattamente la struttura dell'altare vero e proprio. I gradini di accesso. L'altare sorgeva su un podio che era decorato da una serie di figure, purtroppo conservate in minima parte, che quindi non ci lasciano dare un'idea sicura su quello che era il loro soggetto. Più in alto, viceversa, sia all'interno che all'esterno dell'altare, correva un fregio. L'altare stesso era decorato sui due lati da due motivi a pulvino che terminavano in due grifi alati. Ecco, vediamo un particolare del bordo dell'altare con i girali di accanto e questo è lo stesso particolare. Vediamo i girali di accanto che terminano nella figura del leogrifo. Questo è l'interno dell'altare con la processione che rappresenta le vergini vestali al seguito, seguite da due apparitores, due accompagnatori. E questo ancora è un particolare della decorazione dell'altare sul suo bordo esterno. Era rappresentata una scena di sacrificio. Vediamo vari personaggi, i vittimari, cioè coloro che avevano il compito di accompagnare e di uccidere gli animali per il sacrificio, vestiti con questo caratteristico abito, un corto gonnellino stretto in vita, detto limus. I vittimari portano gli animali al sacrificio, sono rappresentati due buoi e una pecora e come potete vedere ciascuno di essi ha in mano uno strumento. Su questo piatto, ad esempio, è un coltello, un altro coltello di un altro vittimario, i due apparitores con i fasci e un sacerdote probabilmente, che recca un sacerdote e un altro personaggio che recca in mano una scatoletta, la cerra, con gli oggetti sacri destinati al culto della divinità venerata. Questo, ancora una volta, è l'interno dell'altare, con la processione, in particolare delle vergini vestali, le altre tre vergini vestali in ordine decrescente con gli apparitores. E riprendiamo ancora una volta il disegno ricostruttivo, questa volta per soffermarci sulla struttura del recinto esterno. In questo disegno noi possiamo vedere un particolare di quella che era la decorazione interna del recinto. Si trattava di una serie di paraste separate da una fascia e con una parte superiore decorata da una serie di motivi di ghirlande e di bucrani. Queste paraste, altro non sono che la traduzione in marmo delle aste linee di legno che dovevano circondare il recinto, che dovevano costituire l'essenza stessa del recinto. E proprio in questo passaggio dal legno al marmo molti studiosi hanno voluto vedere proprio quello che è un dato sintomatico e caratteristico dell'arte augustea, cioè il rifarsi voluto a tutta una serie di elementi tradizionali e la ripresa di questi stessi elementi in una forma che ormai è diventata monumentalizzata. Così dal recinto di legno si è passati a questo fastoso recinto, quasi una costruzione se stessa, tutto in marmo. Questo è un particolare del recinto interno. vediamo i bucrani tra due paraste, due travi che hanno il compito di sorreggere le ghirlande interna, una patera ad indicare l'aspetto sacrificale della composizione. E questa invece è la decorazione del recinto esterno. Vediamo che anche in questo caso ci sono delle paraste tutte decorate con dei motivi floreali che sorgono su una base che ricorda la base attica delle colonne dell'ordine ionico. La parte inferiore, il pannello inferiore, è concluso da questo motivo meandro. E questa è la decorazione floreale che corre su tutti quanti i lati del recinto esterno, sia sui lati brevi che sui lati lunghi, e che costituisce uno dei motivi caratteristici di questo monumento. Vediamo che da un cespo di base sorge una complessissima decorazione di tralci vegetali e floreali che ricordano la pianta dell'accanto. Questo motivo centrale è rappresentato da un candelabro molto esile, mentre sui lati poi compariranno altre figure animali, soprattutto i cini, che sono l'animale sacro venere. Tutta quanta la composizione, e qui ne possiamo vedere un particolare, vedete i cini, il candelabro centrale, tutta la composizione, vi dicevo, è fittamente popolata da una serie di piccoli animali, fiori, piante, che sono stati interpretati giustamente come un simbolo dell'età dell'oro, la nuova età di opulenza, la nuova età di ricchezza, che si stava prendo proprio con il governo di Augusto. Si è molto discusso anche sul modello che sta alla base di questo elemento decorativo, e alcuni studiosi avevano voluto leggere in questo un riflesso dell'arte ellenistica di Pergamo. Viceversa, oggi si tende a credere, è stato dimostrato, che in realtà questi motivi sono dei motivi ispirati all'arte classica attica greca del V e del IV secolo a.C., così come neoattici provenienti da Atene sarebbero gli autori, gli scultori che avrebbero eseguito questo fregio. Questo fregio non è soltanto una rappresentazione dell'età dell'oro, ma, come è stato notato, ha anche un valore quasi di albero genealogico. Infatti, come vedremo più avanti, molti dei rami vanno a cadere esattamente in corrispondenza di alcune figure chiave della rappresentazione sui lati lunghi legate a singoli personaggi di particolare importanza all'interno della casa di Augusto. Ma prima di passare a questo argomento, vediamo un momento questo soggetto, si tratta di un cratere di argento trovato a Hildesheim, in Germania, e che rappresenta un pochino quella che è la traduzione, anche in questo caso molto ricca, ma sicuramente privata, degli stessi motivi. Vediamo che il cratere è decorato con gli stessi motivi di girali, di fiori di accanto, della Rapacis, a dimostrazione di come questi modelli che sono nati nell'arte ufficiale si vadano diffondendo, vengano adottati immediatamente anche all'interno dell'arte privata. Sopra al motivo di girali, in corrispondenza dei due ingressi, erano quattro pannelli figurati con altrettanti motivi mitologici. Il primo pannello, sul lato ovest, rappresenta Enea, sbarcato all'Avinium, il quale vede, trova la scrofa che gli presagisce, gli dice che quello è il posto dove finalmente è arrivato, dove doveva arrivare, e che sta sacrificando per questo ai penati. Questo è un particolare della stessa rappresentazione. Enea, lo ricordiamo, è l'antenato di tutta Roma stessa, ma è anche l'antenato dell'agente Giulia, della famiglia di Augusto, attraverso il figlio Iulo, che molto probabilmente era rappresentato a destra, in una lacuna del pannello. sull'altro lato, rispetto al pannello di Enea con i Luperc, che sacrifica i penati, abbiamo un altro soggetto legato alla storia delle origini di Roma, vale a dire il Lupercale, si tratta di un pannello molto frammentario, quindi completamente integrato, che doveva comunque rappresentare i gemelli Romolo e Remo allattati dalla lupa, alla presenza di Marte, il padre reale dei gemelli, e del pastore Faustolo, il padre adottivo dei gemelli stessi. Sul lato opposto, il lato orientale, questa rappresentazione, che ha fatto molto discutere. Come vedete, vi è rappresentata una figura femminile molto pulenta, col capo velato, la quale regge tra le braccia due bambini all'interno di un paesaggio esuberante di piante, fiori, foglie. In basso, alcuni animali, a destra e sinistra, due aure velificantes, due personificazioni femminili, una delle quali, seduta su un cigno, il simbolo di Venere, l'altra, seduta su quello che è molto probabilmente un dragone marino. Varie proposte sono state fatte per identificare questa figura. Secondo alcuni, si sarebbe trattata della pace, la destinataria dell'altare. Secondo altri, di Venere genitrice, l'altra divinità che entrava direttamente nella genealogia di Augusto in quanto madre di Enea. Ancora per Momigliano si sarebbe trattato di una rappresentazione dell'Italia. Però, quella che è l'ipotesi più probabile è che questa sia una rappresentazione della Saturnia Tellus, della Terra, tra gli altri due elementi, l'aria e il mare, la Terra che in questo momento gode di una particolare forma di fertilità, di ricchezza, proprio perché è sopraggiunta la tanto aspettata e tanto sospirata età del loro. Ecco, noi vediamo qui un particolare di questa figura femminile, figura femminile che, come tutta quanta la rappresentazione, trova dei precedenti dal punto di vista stilistico e compositivo, ancora una volta nel mondo ellenistico e in particolare nel mondo alessandrino. E poi, sull'altro lato, ancora una volta in uno stato di grave frammentarietà, l'unico frammento realmente superstite è questo, doveva essere una rappresentazione della Dea Roma, Roma personificata come una figura di Amazzone guerriera, seduta su un cumulo d'armi e probabilmente fiancheggiata ad altre due figure che qui mancano, in cui si è voluto riconoscere Onos e Virtus, l'onore e la virtù, cioè le due personificazioni che si accompagnano solitamente al trionfo. Ora, questi pannelli nel loro insieme formano un sistema complesso dal punto di vista rappresentativo con dei rimandi incrociati tra tutti e quattro i pannelli. L'atellus su un lato corrisponde ad Enea, ad Enea corrisponde l'Upercale, all'atellus corrisponde Roma e ancora Roma sull'altro lato si giustifica proprio in base alle sue origini mitologiche legate da una parte ad Enea e ancora a Romolo e Remo. È un programma molto articolato che è valido tanto, come vi dicevo prima, per le origini di Roma quanto per le origini stesse della gente Giulia e della famiglia di Augusto. E questo programma ancora una volta come già abbiamo notato per i girali trova un eco immediata in altri monumenti che sono stati ritrovati sia in Italia che in altre città. Per esempio noi siamo di fronte ai cosiddetti rilievi brimani sparsi, questo è conservato a Vienna che dovevano decorare un monumento di Palestrina la città latina vicina a Roma. In questo caso è rappresentata una leonessa che allatta ai propri cuccioli in questo rilievo di Palestrina in una cornice esuberante una grotta elementi vegetali che ricordano il pannello dell'Arapacis e una cinghialessa. Un altro pannello doveva rappresentare una pecora. Si tratta degli stessi temi che vengono riprodotti rielaborati proprio sulla base del modello dell'Arapacis medesima. Veniamo ora alla decorazione dei lati lunghi del recinto che contengono quella che è stata sicuramente considerata la parte più importante dal punto di vista decorativo. Una lunga processione che si snoda su entrambi i lati lunghi quello meridionale e quello settentrionale dell'Ara e all'interno della quale compaiono accanto ai supremi sacerdoti della religione romana le figure di Augusto e della sua famiglia. Come vedete da questa immagine si tratta di una serie di personaggi disposti su più piani lungo sopra uno sfondo completamente neutro davanti a uno sfondo neutro. Ora questo sfondo il fatto che sia stata rappresentata una processione in qualche modo slegata da avvenimenti temporali ha fatto paragonare questi rilievi dell'Arapacis a un altro famosissimo monumento dell'antichità la processione rappresentata sul fregio ionico continuo del tempio greco del Partenone ad Atene la processione del Partenone rappresentava la festa delle grandi panatenaiche la festa in onore della divinità Atena venerata nel tempio in realtà noi qui vediamo un particolare del fregio le somiglianze tra le due rappresentazioni non sono così stringenti nel Partenone è rappresentato un evento nel quale però non entrano personaggi storici ben specifici la scena si svolge al cospetto di alcune divinità nel fregio dell'Arapacis viceversa i personaggi sono ben identificabili sono personaggi reali si tratta di una cerimonia realmente accaduta ed è una cerimonia totalmente umana non compaiono divinità si è discusso molto anche su qual è la cerimonia rappresentata in questo fregio e molto probabilmente si tratta della cerimonia legata al ritorno di Augusto dalla Spagna e dalla Gallia cioè al suo arrivo a Roma nel 13 a.C. oppure più semplicemente della cerimonia con la quale Lara fu costituita che diede l'inizio ai lavori una delle figure chiave da questo punto di vista è la figura di Agrippa il genero di Augusto che noi sappiamo essere morto nel 12 a.C. la scena rappresentata quindi deve svolgersi in un momento anteriore a tale data e qui vediamo la composizione più avanti erano i pontefici i sacerdoti massimi dello stato romano seguiti da Augusto da una serie di personaggi del suo seguito e poi dai flamini i flamini erano dei sacerdoti che avevano la cura particolare delle tre divinità maschili più importanti del pantheon romano il flamen di Alis il sacerdote in cura di Giove poi il flamen Marzialis per Marte il Quirinalis per Quirinus un altro flamen era il flamen Iulialis il sacerdote che si doveva occupare del culto di Giulio Cesare divinizzato seguono poi Agrippa e ad altri personaggi che vedremo meglio in dettaglio questo è Augusto come compare sul fregio col capo velato la corona in testa secondo un modello che noi conosciamo anche da altri ritratti dello stesso periodo questi sono i personaggi del seguito e questo è il flamen di Alis questi sono gli altri tre flamini e come vedete questi sacerdoti sono caratterizzati dalla presenza di questo strano copricapo aderente alla testa che finisce in un apice appuntito un'altra particolarità vedete che i due ritratti quello del flamen Marzialis e Quirinalis sono abbastanza anonimi il personaggio centrale il flamen Iulialis è viceversa ben caratterizzato nel suo aspetto si tratta molto probabilmente di un personaggio che si chiamava Sesto Apuleio ed era il nipote di Augusto per via dell'essere figlio della sorella di Augusto Ottavia ora questa è una caratteristica che contraddistingue i personaggi rappresentati nella processione solo i membri della famiglia di Augusto e personaggi che ricoprivano cariche pubbliche hanno un volto ben caratterizzato sono gli unici ad avere il diritto a un ritratto vero e proprio ecco ancora una sequenza di personaggi Agrippa con un ragazzino un bambino molto probabilmente il figlio Gaio Cesare che nel 13 avanti Cristo doveva avere sette anni poi un personaggio femminile nel quale oggi si tende a riconoscere Livia la moglie di Augusto seguita dai due figli Tiberio e Druso quest'ultimo accompagnato dalla moglie Antonia Minore e dal piccolo figlio germanico vediamo nei particolari Agrippa genero ed amico di Augusto colui che aveva sposato la figlia Giulia morto nel 12 avanti Cristo come vi dicevo Livia molti hanno pensato che in realtà la donna rappresentata qui non fosse Livia bensì Giulia ritratta accanto al marito in realtà sicuramente questo ritratto rappresenta viceversa Livia la moglie di Augusto questo Tiberio qui in un'insolita versione giovanile noi lo conosciamo meglio attraverso i ritratti del principato di quando Tiberio diventerà imperatore succedendo ad Augusto Antonia Minore figlia di Ottavia e di Antonio Eccola di fronte il piccolo germanico destinato poi ad essere il padre dell'imperatore Caligola e qui rappresentato all'età di due anni Edruso figlio di Livia e sposo di Antonia Minore quindi destinato in qualche modo con questa unione a sancire la stretta unione tra il ramo dell'agente Giulia e il ramo dell'agente Claudia a cui apparteneva appunto Livia e poi una serie di personaggi anonimi che compaiono sullo sfondo come questo oppure questa strana figura femminile velata che ha fatto molto discutere per il gesto che compie come vedete si porta una mano alla bocca nell'atto di fare silenzio probabilmente tra i due giovani sposi seguono ancora personaggi della famiglia augustea qua rivediamo Druso e poi Antonia Maggiore con il marito Lucio Domizio e Nobarbo e i due piccoli figli Domizio e Domizia Domizio diventerà poi il padre del futuro imperatore Nerone i particolari il ritratto di Antonia Maggiore e questo ritratto che per lungo tempo è stato considerato il ritratto di Mecenate l'amico di Augusto il suo consigliere sul piano culturale il patrono di artisti e di scrittori come Orazio come Virgilio in realtà Mecenate non faceva parte della famiglia augustea quindi non poteva comparire su un rilievo pubblico ufficiale è molto probabile che il personaggio rappresentato sia Marco Apuleio console nel 20 avanti Cristo e primo marito di Ottavia la sorella d'Augusto quindi anche esso facente parte della famiglia imperiale e questa è la processione sul lato nord processione che è molto meno riconoscibile molto meno leggibile perché purtroppo tutti quanti tutte quante le teste dei personaggi erano andate distrutte e quelle che voi vedete in questa rappresentazione sono tutte teste rifatte alla fine del Settecento da uno scultore moderno il Carradori anche su questo lato della processione dovevano comparire però i membri della famiglia di Augusto insieme a tutta una serie di alti magistrati i quindecenviris sacri faciundi gli auguri e i septemviri e pulones cioè si trattava delle più alte cariche dei più alti collegi religiosi di Roma ancora i magistrati e la ripartizione tra le varie cariche tra i vari collegi era probabilmente scandita dai particolari che gli inservienti portavano nelle scatolette nelle acerre in questo caso un tripode sacro da pollo probabilmente a segnare il gruppo dei quindecenviri in questo caso un toro probabilmente per i septemviri sul lato nord così come su quello meridionale comparivano ancora altri membri della famiglia di Augusto vediamo in questo bambino molto piccolo dell'apparente età di 4 anni il piccolo Lucio Cesare insieme alla madre Giulia e proprio questo particolare ci dimostra come era stata concepita la processione sui due lati si trattava cioè di due file di personaggi che dovevano procedere in parallelo intersecandosi nella realtà a pettine e quindi formando un'unica processione tant'è vero che il piccolo Lucio corrisponde esattamente al fratello Gaio sull'altro lato fratello Gaio noi rivediamo qua i due bambini rispettivamente di 7 e di 4 anni Gaio Cesare indossa una corta tunica e dal collo un torques che lo qualificano come giovane troiano ed è proprio di quello stesso anno il 13 avanti Cristo infatti la comparsa pubblica del giovane principino all'usus troie una cerimonia che ricordava le origini troiane della famiglia e di Roma ed è proprio questa rappresentazione che in fondo ci dà la chiave per comprendere quello che era l'insieme del programma figurativo dell'intero altare offerto dal Senato ma sicuramente voluto da Augusto è stato notato ad esempio come la pace la destinataria dell'altare non compaia mai come divinità tra le rappresentazioni dell'Ara non si tratta di una divinità quindi ma di un vero e proprio programma politico ed è stato notato anche come le rappresentazioni dei quattro pannelli che si legano alle origini di Roma e della famiglia Giulia si vengano a saldare con quella che è la processione dove compaiono tutta una serie di personaggi della famiglia che però cessano di essere un insieme di personaggi legati da un vincolo di parentela per diventare una vera e propria dinastia e concludiamo quindi questa lezione con un monumento l'altare dell'agente Giulia ritrovato a Cartagine la vecchia città nemica di Roma distrutta nel 146 avanti Cristo e ricostruita come nuova colonia voluta da Cesare e realizzata da Augusto qui è stato ritrovato un altare che si data molto probabilmente all'età neroniana su questo altare compaiono dei pannelli che ancora una volta a distanza di quasi 60 anni riproducono i vecchi temi dell'Arapacis abbiamo la figura di Roma Apollo la divinità protettrice di Augusto la rappresentazione di Enea in fuga da Troia è molto significativa in una città come Cartagine che proprio al passaggio di Enea era stata legata attraverso l'Eneide Virgiliana e sul lato principale dell'altare troviamo ancora una volta Augusto col capo velato in atto di compiere un sacrificio è assai sintomatico che al tempo dell'ultimo rappresentante della dinastia Giulio Claudia la legittimazione del potere passasse ancora una volta per la celebrazione degli stessi temi che erano stati formulati dal suo fondatore Augusto per maggiori approfondimenti potete consultare il sito internet di Nettuno grazie